In Interstellar ci sono riferimenti ad una storia di 1500 anni fa, che rende il suo finale ancora più bello e ne rivela il significato nascosto. Il film del 2014, di Christopher Nolan, è amatissimo da tutti gli appassionati di fantascienza, di spazio, di astronomia, di tempo. Ma di cosa parla il film? In una terra stritta nella morsa dei cambiamenti climatici, devastata dall'inquinamento, troviamo Cooper, interpretato da Matthew McConey, che si trova a far fronte con il nuovo modo di vivere delle persone in un futuro non troppo imprecisato. Sono diventati tutti agricoltori, c'è sempre meno bisogno della tecnologia, di computer, di televisioni, e le persone si dedicano alla coltivazione, anche perché piano piano stanno sparendo tutte le materie prime e quindi il cibo. Di tanto in tanto sulla terra ci sono delle tempeste di sabbia, che mettono a dura prova la vita delle persone. E a un certo punto, nella camera da letto della figlia, Cooper scopre delle coordinate che lo conducono in una base segreta della NASA. Qui scopre che sono stati inviati degli astronauti attraverso un wormhole, un tunnel spazio-temporale comparso nei pressi di Saturno, nel quale sono state inviate delle sonde per cercare un altro pianeta abitabile. Nel suo passato Cooper era proprio un pilota e quindi viene coinvolto nel progetto da questi scienziati e ingegneri della NASA per poter cercare, passando attraverso questo wormhole, questo tunnel spazio-temporale, un altro pianeta B che assomigli alla Terra e, contemporaneamente, per riportare a casa eventualmente gli astronauti sopravvissuti. Dall'altra parte di questo wormhole ci sono dei pianeti potenzialmente abitabili. Il primo pianeta che visitano gli astronauti è un pianeta completamente ricoperto d'acqua, dove la vita non è possibile per la troppa vicinanza del pianeta al buco nero gargantuo. Il secondo è un pianeta totalmente ricoperto di ghiaccio, all'interno del quale c'è Mann, un altro astronauta, colui che aveva dato inizio a queste spedizioni interpretato da Matt Damon. Anche lì la possibilità di vita è proibitiva, ma dopo una serie di vicissitudini, gli astronauti sono costretti a scegliere se tornare sulla Terra oppure provare ad esplorare un terzo pianeta che ha le caratteristiche giuste per essere quello più simile al nostro pianeta. A quel punto Cooper, Matthew McConaughey, fa una scelta, lascia andare Brand, interpretata da Anna Hathaway, verso Edmunds, il pianeta che alla fine si rivelerà essere quello giusto, dove la possibilità di vita è più che sufficiente per gli esseri umani, e lui invece torna all'interno del buco nero in un atto più che coraggioso per ritrovare i figli e tornare sulla Terra prima che passi troppo tempo. Il finale è molto particolare di Interstellar, dopo aver riattraversato il wormhole per tornare indietro, Cooper si ritrova all'interno di un tesseratto, una realtà pentadimensionale che, come ci spiega nel film, è stato creato da una civiltà, quella degli esseri umani, che in un futuro ancora più lontano avrà trovato il modo di comunicare tra le dimensioni attraverso la gravità. Cooper si ritrova nella camera da letto dietro la libreria della figlia, riesce a comunicarle l'equazione che mette insieme la teoria della relatività di Einstein con la meccanica quantistica e le dà la possibilità di salvare l'umanità e portare via ciò che era rimasto dell'umanità, anche perché poi vediamo che Cooper viene recuperato dai Ranger e portato su una stazione spaziale orbitante dove c'era la gran parte dell'umanità e la figlia Marf era riuscita a far scappare dalla Terra prima della fine del pianeta. Lì Cooper rincontra la figlia, ormai anziana, sul letto di morte. Quest'ultima gli dice, devi seguire la dottoressa Brand, il tuo viaggio non è ancora finito, io ho la mia famiglia ormai qui accanto a me. E quindi si vede che lui ruba una delle astronavi per raggiungere a Nathaway, quindi la dottoressa Brand, su questo pianeta di Edmonds, dove vediamo che ci sono tutti i presupposti per la vita. Lei aveva portato degli ebrioni umani per ricostruire la civiltà umana su un altro pianeta. Beh, diciamo che il discorso che fa Interstellar è molto efficace, è molto interessante, è la prima volta che ci viene mostrato un wormhole, un buco nero in quel modo. Tra l'altro Christopher Nolan ha chiesto all'astrofisico, premio Nobel, Kip Thorne, di aiutarlo nella visualizzazione di un buco nero. Ciò che non viene spiegato molto bene, a mio parere, e che ho provato a spiegare io nel mio primo libro, Portami alla vita, separazioni, che potete trovare su Amazon, è come si è arrivati alla situazione descritta in Interstellar, cioè perché la Terra si trova stretta nella morsa dei cambiamenti climatici, con queste tempeste di sabbia. Qual è stato il passaggio che ci ha portato verso quella situazione disastrosa da cui parte il film Interstellar? Io ho provato nel mio piccolo a spiegarlo nel mio libro e credo che sia importante anche capire questo passaggio per cui i fatti raccontati in Interstellar iniziano proprio in quella situazione, come sono iniziate le tempeste di sabbia e perché siamo arrivati alla situazione che ci descrive il film. Ma torniamo alla nostra teoria, alla nostra relazione, alla nostra favola, al mito nascosto nel film di Christopher Nolan che risale, pensate, a 1500 anni fa. La struttura narrativa del film è molto simile ad un'allegoria, e cioè quella del mito della caverna di Platone. I parallelismi che condivide con questa storia ne esaltano ancora di più il finale in un senso metaforico e filosofico che sicuramente Nolan avrà preso in considerazione prima di girare questa pellicola. Ma cosa dice il mito della caverna di Platone? Nell'allegoria Platone immagina un'ipotetica grotta dove un gruppo di esseri umani è incatenato a un muro. Gli esseri umani non riescono a vedere il mondo per quello che è perché le loro catene impediscono loro di percepire qualsiasi cosa oltre un muro che proietta ombre dall'apertura della grotta. Interstellar sembra adottare questa idea descrivendo come, proprio come i prigionieri nella grotta, l'umanità sperimenta una visione distorta della realtà in cui crede di avere opzioni limitate per sopravvivere. Insomma, come i prigionieri delle caverne, in Interstellar e gli esseri umani sono ignoranti, sì, perché la loro percezione dell'universo rimane limitata dai vincoli di ciò che possono vedere e di ciò che possono toccare intorno a loro. Nell'allegoria di Platone, un prigioniero però riesce a scappare dalla caverna. La sua iniziale incursione nell'ignoto è sconcertante, ma alla fine lo porta a risposte che non sapeva nemmeno lui di cercare. Il personaggio di Matthew McConaughey sperimenta qualcosa di simile quando Cooper getta al vento la prudenza, abbraccia l'incertezza ed entra nel buco nero gargantua. Comprendere il tesseratto a cinque dimensioni si rivela sconcertante, ma alla fine lo porta a una moltitudine di possibilità che non solo salvano l'umanità dal suo destino imminente, ma lo aiutano anche a incontrare di nuovo sua figlia Martha. I parallelismi del film Interstellar con l'allegoria della caverna di Platone ne rendono il finale ancora più profondo ed entusiasmante se mai ce ne fosse stato bisogno, evidenziando come il film non riguardi solo l'umanità che trova una soluzione al suo destino imminente. Riguarda tutti gli esseri umani che infuriano letteralmente contro il morire della luce e trascendono tutti i vincoli materiali e le dimensioni di tempo e spazio per ottenere una comprensione più profonda dell'universo e di se stessi. Interstellar, come cita Cooper, è un film sull'umanità che guarda il cielo e si interroga sul suo posto tra le stelle invece di essere imprigionata dalle preoccupazioni sul suo ruolo nella Terra. Il sole che brilla all'esterno della caverna di Platone rappresenta l'idea del bene e questo passaggio darebbe facilmente l'impressione che Platone la concepisse come una divinità creativa indipendente. normalmente gli uomini sono tenuti prigionieri costretti ad osservare delle semplici ombre di forme che non sono neanche dei veri oggetti essi possono essere trovati soltanto fuori dalla caverna cioè nel mondo intellegibile delle forme conosciute della ragione e non della percezione. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi parallelismi se avete delle domande fatemele nei commenti qui sotto non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube attivate la campanellina per non perdervi tutti i nostri video e seguiteci su Facebook, Instagram e anche TikTok dove tutti i giorni pubblichiamo aneddoti, video, curiosità che riguardano il meraviglioso mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!